Allora Fede tieni questo, tieni questa, tieni questa e la carne mi sa che te l'avevo già data Allora lo so penserei siamo in vanilla, stiamo semplicemente andando a prendere dei minerali eccetera eccetera Ma non è così Fede ci saranno delle sorprese incredibili quindi preparati perché sarà fantastico Allora per adesso aiutami a prendere un minimo di legna che ci farà comodo se ci vogliamo craftare qualcosa mentre siamo in miniera Dopodiché si va a scavare, io ti ripeto preparati perché sarà bellissimo, ti emozierai tantissimo E sarà uno di quei giorni che ti piace più di brutto E Stef lo sta più zitto, porca miseria, volevo dire che io ancora non ho capito niente, non so cosa aspettarmi che mi sta picchiando Grazie zombie che l'hai picchiata perché mi ha trattato malissimo E certo cavolo non stai zitto un attimo io quando parlo Stef, scusa se tu sei sempre lì che chiacchiere e racconti la tua vita Racconto la mia vita, ti stavo soltanto dicendo che sarai felì, ma quanti zombie stanno arrivando Ti stanno moltiplicando Stef, purtroppo continuano ad arrivare all'infinito Oh, non è il vostro giorno, maledetti infami Saremmo calmati, quante legne si serve? Boh, io ne ho cinque, tu quanta ne hai? Eh due Due Ebbene mi hanno picchiato Mi hanno picchiato Stef E a me non hanno picchiato No, te l'hanno picchiato dopo Certo, va bene Allora, io e Boh, ne ho otto, mi va bene Andiamo Tanto mi ho rubato anche una a te Forza, 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 forza Scendiamo qui sotto Allora, dobbiamo prendere i minerali Il nostro obiettivo oggi sono i diamanti Ovviamente, come sempre No, Ferre, non è sempre l'obiettivo della vita Certo che sono sempre l'obiettivo Non è sempre l'obiettivo Prendere il carbone Stef Sì, se ti serve fare delle torce Sì, infatti ci potrebbe servire No, non servono a niente le torce Se non puoi avere i diamanti Allora, qua Io direi di prenderci un pochettino di ferro Che può sempre essere utile Perfetto Poi Ho visto del carbone o sbaglio? No Ho trovato solo del ferro Quindi ho preso del ferro Dato che hai detto che serve Quindi lo sto raccogliendo Perfetto Occhio a dove andiamo Eh, però io ancora continuo a non capire, Stef Che cosa devi capire, Ferre? Cosa dobbiamo fare oggi? Prendere i diamanti No, non è vero C'è qualcosa di strano Cosa c'è di strano? Tu sei una persona strana oggi Quindi secondo me Mi stai nascondendo qualcosa Va bene, Ferre Mi devi trollare, vero? Sì Ho capito, sì Oh, sei proprio per spicaccio Tanto i consolini lo sanno già Perché avranno il titolo e la miniatura Quindi l'unica imbecille In questo video sarai tu E farei la figuraccia da sola Guarda, Stef, se mi trolli Io appena scopro la trollata Ok Esco dal video, te lo giuro Ti mollo da solo e finisci A fare fatto? Sì, a fare fatto Stringiamoci la mano, vieni Non possiamo stringerci la mano Così si stringe la mano Ti do un colpo di bistecca, guarda Perfetto Un colpo di bistecca Ma dobbiamo scendere qua? Eh, ho bucato io là Ah, no Perché stavo raccogliendo del ferro E si è bucato Io seguirei la naturalezza della caverna Cosa avevo detto? Che è stata creata da qualcuno E quindi mi devo aspettare Qualche brutto scherzo Ah, non vedi come è naturale Ed è tutto normale E non è minimamente scavata No, non è normale Ci sono dei gradini, Stef Hai mai visto una buca su Minecraft Con dei gradini già pronti Questi lo so che sembrano finti, capito? Come se fossero naturali Ma non sono finti Perché questi sono dei gradini costruiti Si capisce, Stef? Va bene, va bene Perché quando Stef non mi dice le cose Chiaramente c'è sempre qualcosa di strano Allora, guarda un attimino La redstone Ok Guarda la redstone Ok Stiamo andando verso il basso Quindi ci stiamo avvicinando i diamanti Si spera Si spera Opla Opla Sai cosa converrebbe fare? Converrebbe un attimino Creare due o tre fornaci E farci l'armatura in ferro Perché di sotto ci potrebbe essere Roba più pericolosa Ok Se capitiamo in un dungeon Sai è abbastanza pericoloso Sì, va bene Non è un problema Quindi io direi di farci un attimino all'armatura Basta raccogliere un pochettino di cobblestone E stiamo a posto Va bene Allora ho preso un bel po' di roba Ok Io preparo la crafting table Quindi facciamo così Facciamo così E facciamo così La vado a piazzare E tipo Qua Mi piace questo posto Aspetta Tipo qui Qui è pieno di redstone Fighissimo Opla Poi ci facciamo U U Mi escono soltanto due, vero? Sì Le vado a piazzare Entrambe qui E metto metà del carbone qui Con metà del ferro qui E l'altra metà del carbone Con l'altra metà del ferro qui Perfetto Così vado abbastanza veloce Hai preso tutta la redstone? Eh, sì Però io ho visto che c'era un'altra strada L'hai creata tu? Eh, no Boh, Steph Stavo piccolando un pochettino Eh, no, sì Infatti non c'era una strada Cioè, sì Infatti non è una strada È un pezzettino dove io stavo piccolando Sono stato ingannato C'era un sacco di carbone lì C'era un sacco di carbone Quindi l'ho preso tutto Per quello si è fermato quel buchetto Ok Allora Mentre sto aspettando il ferro Io saluto gli abbonati di oggi Che sono Withered Bonny Tony Aterio Justin Pugliesi Leonardo Craccolici E arriva l'incartamento E oggi non ce l'ho fatta A non incartarmi Grazie mille per essere abbonati Allora Adesso prendo quattro Ho messo anche il mio ferro, Steph Non era tanto Però me l'ho aggiunto Povera E che vuoi? L'hai preso tutto tu Eh, chissà come mai Se non mi dè degli obiettivi, Steph Io non piccono niente Ti ho detto che oggi devi prendere i diamanti Allora io vado a prendere i diamanti No Sì Me ne manca uno Opla Opla Allora io lì ho visto il primo diamante Però so già che se vado a prendere quel diamante Esploderò Ok Quindi andrai tu a prendere quel diamante Allora Tu rimani qua col ferro Ok Ti lascio anche gli altri due di ferro E vado io a prendere il diamante Così No fammi l'armatura, Steph Eh, devi aspettare un altro po' No, non lo voglio aspettare Tutto dritto Poi lo vedi Ok Allora Scusa, non hai notato nulla di strano? Eh, però no Ah Tu non vedi ciò che io vedo Cosa vuol dire che c'è? Ok Allora, Ferre Torna qui Ok Ok Vai nelle impostazioni Nelle opzioni E attiva una certa cosa Nelle resource packs Non c'è niente Non c'è niente No Vai al diavolo, Ferre Era una sorpresa, Ferre Adesso non posso fartela Cosa facciamo? Non posso sistemare Poi mi fai la sorpresa Tanto non ho idea di cosa possa essere Quindi non lo so, Steph Ti distruggo E dopo tre eternità Finalmente Ferre Perché hai trasformato i diamanti con la mia faccia Eh, non sei felice Cioè, è il mio compleanno oggi, Steph Non è il mio compleanno Il mio compleanno è tra un bel po' di mesi Quindi perché mi hai fatto questo regalo bellissimo? Allora, non mi chiedere perché l'ho fatto Se poi sei felice che sia stato fatto È certo che sono felice Però volevo capire il motivo, scusa, eh Allora, vai, prendi Leggi come si chiama Aspetta Ma tu l'hai visto? Sì, Ferre Ma è bellissimo Anche quando lo prendi è la mia faccia La ferrenite È fantastico Che bello, Steph Allora, adesso Prendile un bel po' Esatto, li prendo tutti, ovviamente Che ci servirà Lei si aspettava gli scherzi Si aspettava che Steph l'avrebbe distrutta Eri troppo misterioso, Steph Sembrava una cosa brutta Cioè sembravi un po' losco Eppure, una sorpresa, una sorpresa Mica ti potevo dire Tutto a posto Stavi per cascare nella lava? Eh sì, qualche rischio me lo son preso Devo essere sincero Allora, al momento Io ho nove bei ferrenite Bellissimi Opla Ho paura di andare avanti Perché sembra pericolosa questa zona Tu che dici? Dovremmo tappare bene, non lo so Però mi sembra ci sia tanta, 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 tanta lava Quindi non so se mi addentrerei Sì, poi io alla fine non ho roccia praticamente Perché ogni volta c'erano uno stone Ogni volta prendevo diamanti Prendevo ferro Prendevo le cose Ma non stavo mai prendendo anche la cobblestone Quindi sono messo abbastanza male con i materiali Allora, Ferre, dove sei andata? Sto facendo la pioggia dei miei diamanti Ah, cioè ti stai auto Alcuni tipo li ho tirati a te, penso Sì, infatti ce li ho pubblicati tutti io Ma possiamo fare tipo anche l'armatura? No, per chiedere troppo forse questo Dai, non penso che si possa trasformare in un'armatura questa roba Allora, un attimino Ascoltami un attimino Teoricamente Vieni con me Vieni, vieni Tu hai tutti i diamanti? Mi li hai dati? Sì, ce li hai tutti tu Ma sono tornato Ho fatto avanti e indietro? Eh sì, infatti non sto capendo dove vuoi andare Di qui Di qui e di qui Allora, dovrei avere abbastanza bastoncini Fare così E fare così Allora Tieni, numero uno Ma sei serio? Facciamo questa Ma io dicevo che era impossibile creare le cose Invece è possibile Ma questa cosa è una magia bellissima, Steph Allora Tieni la spada a Fernite Sword No, vabbè È tutto rosa, guarda E questa fa male Perché comunque ha il potere dei diamanti, ovviamente Poi Tieni la Fernite Axe Ma è bellissimo Anche Steph sta morendo da quanto è bello questo episodio, Steph Allora E poi manca giusto questa Tieni anche questa Opla Tutto Tutto Corredo completo Tutti gli utensili creati Allora La spada così Io mi sono ucciso, non riesco più a parlare Facci vedere tutti gli utensili La spada Ok Il piccone L'ascia L'oe Ok Perché non mi ricordo come si traduce Quindi la chiamerò Oe In realtà non so se c'è anche la pala Aspetta che controllo Perché in effetti E chissà Non ne ho idea Facciamocene un bel po' di bastoncini Va, facciamo così Allora mi posiziono tutto bene nell'inventario Perché ovviamente mi mando via queste spade In pietra Che non mi servono più a niente Tieni Ti ho dato anche la pala Non che mi possa essere tanto utile Però almeno c'è pure la pala Vabbè Può essere utile Può essere utile Ok Ferre Abbiamo completato i nostri utile Eeeh Scusi Usiamo subito le spade Stef L'ho distrutto L'ho massacrato L'ho proprio disintegrato Non si è neanche accorto di averti visto Allora Io però purtroppo non ho La ferenite BKX Lo vuoi? No tranquilla No attanto sei tu avanti Quindi è giusto Stai facendo tu strada Stef No 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 è la tua roba Ferre Devi tenerla tu Non ti sei persa vero? No sono dietro di te La strada è dritta Stef Sarebbe molto normale Sei un po' esagerato Di qui Pipistrellino Ti lasciamo in pace Continuiamo a risalire Voglio vedere se ci sono un po' di mostri in giro Per fare un po' di combattimento Però potrebbe essere diventato giorno Infatti è diventato giorno Quindi immagino che siano schiattati brutalmente Vero? Eh penso proprio di sì Immagino che non ci sia più nessuno Mi sa che tutti i potenziali nemici Sono scappati via Appena hanno sentito parlare della Ferrenite Sword L'arma più potente di Minecraft Eh sono d'accordo Stef Anch'io scapperei Sono proprio d'accordo Ma qui c'è un burrone incredibile Ma dove? Cilenti Ci fermiamo così Qua sotto Come sempre Come altri video Iscriviti al canale Cappellino E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao